Cos'è Cardano? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Davide di Investire in CryptoLoot e come al solito andiamo a fare un video settimanale per andare a esplicare, per capire come funziona un determinato progetto in questo caso Cardano, quindi andandolo a valutare nei miei vari step che ormai vi ho mostrato in maniera abbastanza esplicativa ma che andrò a mostrarvi anche oggi in questo modo, ossia il perché il segmento, la soluzione tecnologica, community, fondatori, team e sviluppo tokenomics, ecosistema e casi d'uso, roadmap e valutazione del prezzo. Questi passaggi sono passaggi che vado a ripetere per ogni valutazione di ogni progetto, quindi in questa maniera voi avete la possibilità di poter capire e comprendere come andare a valutare un progetto e andare a mettere anche in confronto due progetti dello stesso settore che potrebbero essere valutati per un ipotetico investimento. In questo caso andiamo a parlare di Cardano. Perché? Ed il segmento Cardano è un progetto crypto che prende il nome da Gerolamo Cardano, un matematico italiano, del segmento layer 1 definibile blockchain 3.0. Cardano mira a risolvere i problemi di scalabilità e di costo per le transazioni delle blockchain 1.0 come bitcoin e 2.0 come ethereum. L'approccio che Cardano ha voluto avere con il mercato delle criptoalute è di mirare alle aziende e dai professionisti, in ottica for profit, differentemente da ethereum, ossia no profit. Puntando ad avere una cena atta a offrire degli strumenti per la creazione ed il miglioramento del mondo. L'approccio che ha sempre distinto questo progetto è quello di far verificare gli aggiornamenti da portare alla rete, non ad un team di sviluppo interno, ma agli utilizzatori finali su testnet, così da essere il più imparziale possibile. Il metodo di consenso adottato da Cardano è quello POS, quindi Proof of Stake, denominato Oroboros, che differisce dagli altri POS per la sua efficienza e scalabilità. Inoltre Cardano ha la particolarità di permettere la creazione di token nativi sulla sua blockchain come se fossero ADA, ossia il token della blockchain stessa, così da non cadere nel difetto di ethereum con i token della chain che aumentano di gran lunga le fees di transazione. Proprio perché i token che sono all'interno della blockchain di ethereum, che girano sulla blockchain di ethereum, in realtà sono degli smart contract e quindi per funzionare hanno bisogno di fare determinate operazioni che poi vengono confermate con ITER, quindi ETH. Invece su Cardano ogni token realmente non è uno smart contract, ma è proprio un token nativo come ADA, quindi in quella maniera non ci sarà bisogno di andare a confermare o comunque avviare un processo di smart contract. In questa maniera praticamente si saltano tantissimi passaggi e quindi si diminuisce anche il costo delle transazioni. For profit. Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, è anche cofondatore di Ethereum assieme a Vitalik Buterin, dal quale si è allontanato per la diversa visione aziendale che avevano. Questo perché, come vi ho già detto, Ethereum è no profit e Cardano è for profit. In effetti l'Ethereum Foundation è una società no profit che mira a sorvegliare, sviluppare e gestire il suo network, mentre Cardano ha una struttura aziendale con tre enti ad ognuno di loro e ha un compito differente. La Cardano Foundation è l'azienda no profit che è depositaria del marchio e si occupa dell'andamento della cene, quindi la sorveglianza della cene e dell'ecosistema. E Murgo, che è la società che si offre di aiutare coloro che vogliono sviluppare su Cardano, diventa anche partner dei progetti che aiutano a sviluppare, in questa maniera vanno a collaborare insieme. Dopodiché la terza azienda, la Input Output Hong Kong, quindi IOAK, è l'azienda fondata da Horskinson, quindi Charles Hoskinson, che offre servizi istituzionali e si preoccupa della ricerca e sviluppo della cene. L'ultima battuta, Cardano crea di volta in volta tramite una parte delle fees di transazione e degli staking rewards una treasury che utilizza per investire nel progetto ed in servizi aggiuntivi. Quindi questo è il metodo in cui viene gestito il sistema aziendale da parte di Cardano. È un qualcosa che comunque bisogna specificare perché è nettamente differente rispetto a molti altri progetti crypto, soprattutto le Air One. La soluzione tecnologica che porta, quindi qual è il must di Cardano per il quale noi dovremmo ipoteticamente scegliere in un'ottica di investimento? La soluzione POS scelta per confermare i blocchi di Cardano è chiamata Oroboros ed ha la sua particolarità di creare delle unità temporali chiamate Epoche, che hanno la durata di 5 giorni solari ed all'interno di ogni epoca vi sono 21.600 slot. Quindi come se avessimo una settimana dan 21.600 giorni. Praticamente questo è diciamo il metodo che utilizza. Per ogni slot viene scelto uno staking pool validator, ossia uno slot leader, quindi colui che andrà a validare quello slot scelto randomicamente, il quale riceverà le fees prodotte dalla validazione del blocco. Esiste la possibilità di poter diventare validator oppure semplicemente di delegare le proprie crypto loot ad uno di essi con tutti i pro e i contro del caso, quindi sapete benissimo che poi non abbiamo nessun controllo. Il pro di Oroboros rispetto ad altre POS è che esistono prima di tutto più di 3.000 validatori e per diventare un validatore basta installare un client su un pc senza troppe pretese. Poi logicamente bisogna depositare un quantitativo di ADA e poi da lì si può diventare un validatore. È molto semplice fare il validator su ADA, quindi è anche molto democratico perché chiunque volesse può tranquillamente diventarlo. Per roviare alla centralizzazione che è il tallone da kill del sistema di conferma POS, vi è un parametro che in base alle riserve in stake dei validatori definisce le rewards. Se uno di essi è troppo potente, quindi ha troppe crypto loot rispetto alla media di quest'ultimo, di quest'ultimi, riceverà meno ricompense anche svolgendo lo stesso carico di lavoro di altri nodi. Quindi se noi abbiamo tantissimi soldi e utilizziamo questa mancanza di decentralizzazione della proof of stake, quindi mettiamo tantissime crypto loot in gioco, ipoteticamente su altre chain avremmo il vantaggio di confermare i blocchi. Mentre in questo caso il vantaggio non esiste perché se noi mettiamo troppe crypto loot, il vantaggio se ne va a farsi fregare, ecco perché riceveremo meno rewards e quindi avremo meno ritorni rispetto a metterne di meno. Inoltre è possibile dare più slot contemporaneamente a più di un leader, di un slot leader, logicamente stiamo parlando di questo, per processare più transazioni contemporaneamente e quindi di fatto aumentare la scalabilità della rete. Continuiamo sempre con la soluzione tecnologica. La scalabilità su Cardano non è una delle migliori di fatto. Ad oggi si hanno massimo 30 transazioni per secondo. Questo numero in realtà è stato arcappato, ossia è stato limitato volontariamente anche se è possibile raggiungere fino a 50 transazioni per secondo, rispetto a comunque Ethereum è nettamente più veloce. Non per le 7 transazioni ma per la possibilità di arrivare fino a 50 transazioni. La limitazione è stata messa in atto per cercare di non sovraccaricare troppo il network e perché ad oggi non c'è necessità di output maggiore. Quindi logicamente non essendoci né smart contract né progetti e nient'altro insomma che funzionano su questa blockchain ad oggi, e questo è il talone da kille reale di Cardano, è inutile andare a spingere così tanto il network. L'obiettivo di Cardano è quello di poter rendere le epoche parallele così da permettere un aumento della scalabilità dando la possibilità di poter ottenere più slot assieme. Quindi praticamente è come se dovessero verificarsi più settimane tutte insieme e quindi in questa maniera avendo più settimane tutte insieme potremo ipoteticamente fare una cosa per ogni settimana e quindi andremo ad avere un aumento della produttività. Ecco, community, sapete bene che la community è importante su qualsiasi progetto e loro hanno dei numeri abbastanza interessanti. Su Twitter addirittura 1.3 milioni di utenti ed è un numero veramente alto. Reddit addirittura 700.000 utenti. Andando a guardare la media di tutti gli altri praticamente ad oggi Solana soltanto è superiore come Twitter, quindi utenti di Twitter, che ha 1,9 milioni, mentre Cardano ne ha 1.3. Per quanto riguarda Reddit è quello che ha il quantitativo maggiore e per quanto riguarda anche Telegram anch'esso ha il quantitativo maggiore, mentre per YouTube invece è la terza per quantità di utenti, logicamente di quelle che ho valutato fino ad oggi. Poi abbiamo CELINK che è prima e Solana che è seconda, quindi in questo caso questo è il metodo. Discord a quanto pare non esiste ufficialmente e Instagram altrettanto. Andiamo a guardare il team fondatori e sviluppatori. Charles Hoskinson è il fondatore di Cardano, che è stato anche uno dei cofondatori di Ethereum. L'amministratore delegato di IOKHK, l'azienda che ha creato la blockchain di Cardano, quindi è anche amministratore delegato. In un'intervista per la serie Crypto Titans di CoinMarketCups, Hoskinson ha dichiarato di essere stato coinvolto nelle criptoalute nel 2011 e di essersi approcciato al mining e nel commercio. Quindi praticamente lui ha avuto come primo approccio proprio il mining di Bitcoin. Ha spiegato che il suo primo coinvolgimento professionale nel settore è arrivato nel 2013, quando ha creato un corso su Bitcoin che è stato seguito da 80.000 studenti, ragazzi. Quindi ha avuto anche un grosso seguito. Oltre ad essere imprenditore nel settore della tecnologia, Hoskinson è anche un matematico. Nel 2020 la sua compagnia ha donato ADA, quindi in ADA, 500.000 dollari in ADA alla Blockchain Research and Development Lab dell'Università del Wyoming. Quindi abbiamo comunque una persona che sa di cosa sta parlando, sa dove vuole andare, purtroppo è un po' lenta nel sviluppare, vabbè, ma non è colpa sua totalmente. Questa è la token distribution, non la metto sempre prima della tokenomics, per determinate motivazioni, ma insomma, prettamente per capire come gira il mondo. Questa è la token distribution al giorno 1. Abbiamo il 58% venduto in ICO, quindi la maggior parte della crypto è stata venduta in ICO, dopodiché inizia il coin offering, per chi non lo conosce, quindi la prima vendita che è stata effettuata prima dell'avvio del servizio, del programma. Il 31% è stata detenuta per offrirla a coloro che insomma vanno a confermare i blocchi, perché da qualche parte deve uscire la crypto luta, mentre il team, i fondatori, il team di sviluppo hanno l'11%, una piccola parte rispetto a tutta la fetta, in effetti. Molti hanno addirittura il 30%, invece loro soltanto l'11%. La tokenomics, ADA, il token che muove Cardano, prende il nome dalla prima programmatrice al mondo donna. Il token serve per lo staking, per pagare le fees di transazione e per la governance on-chain. ADA ha una max supply di 45 miliardi e ogni epoca vengono rilasciati una percentuale di token riservati, come Rewards, quindi abbiamo visto già prima, del totale dei 45 miliardi, il 31% è per le Rewards, per quanto riguarda la conferma dei blocchi. Viene rilasciata ogni volta una percentuale. Questo quindi cosa comporta? Comporta che ogni volta che viene rilasciata una percentuale è sempre inferiore rispetto alla precedente, proprio perché essendo di un quantitativo definito, automaticamente, come potete vedere, nella linea blu ci sarà una percentuale minore. Ora voi direte, ok, ma arriverà il momento in cui arriverà a zero. Sì, ma già in cent'anni abbiamo raggiunto questo quantitativo, quindi è giusto, basta vedere il grafico, quindi è giusto pensare che, anche se in cent'anni potrebbe esserci una diminuzione abbastanza importante, comunque continuerebbe ad esserci un quantitativo. Questo per andare a creare una specie di deflazione e un possibile incremento del controvalore della criptoluta. Si può stimare un simile halving della distribuzione ai 4-5 anni, perché ogni 4-5 anni c'è praticamente una specie di dimezzamento rispetto ai 4-5 anni precedenti. Come detto già in precedenza, vi è una treasury che viene presa dalle fees di transazione e che serve per effettuare investimenti futuri. Quindi quello è una specie di tesoretto che viene preso e messo da parte. Di seguito viene un grafico che stima i prossimi cent'anni di distribuzione e rewards mediante staking di criptolute. Ve l'ho già spiegato. Praticamente nel futuro avremo sempre meno ADA che verranno rilasciati. I casi d'uso reali, quindi praticamente l'ecosistema di Cardano che ad oggi è questo che vedete. Per quanto riguarda il wallet è Dedalus, quello il full node, i ROI dovrebbe essere il Lite. Dopodiché ci sono tantissimi altri wallet che si interfacciano proprio con ADA. E la cosa interessante è che comunque, anche se ancora non è del tutto completo come blockchain, ha già un sacco di partner e persone che vogliono sviluppare su ADA. Questo perché comunque, oltre ad avere una risonanza mediatica molto importante, è anche un progetto che a quanto pare può fare la differenza rispetto al resto del mercato. La roadmap è molto semplice perché praticamente è stata definita con queste cinque fasi. È assurdo perché è la roadmap più semplice da leggere, ma anche più lenta che abbia mai visto. È partita nel 2017 con l'ICO, si è sviluppata con la decentralizzazione con Shelley, dopodiché abbiamo avuto Gauguin con gli smart contract nel 2019, quindi hanno implementato smart contract, quindi la possibilità di sviluppare di app sulla blockchain. Dopodiché Basho, che ancora non è arrivato, sarebbe dovuto arrivare nel 2020, ma ancora non è successo nulla, avrebbe avuto un incremento di scalabilità, quindi aumentando e parallelizzando gli slot, le epoche più che altro, e poi avrebbe dovuto avere una fase finale nel 2021, ma ormai siamo nel 2022, dove avremmo avuto un incremento della governance, quindi un miglioramento della governance con Voltaire. Ma non abbiamo visto ancora nulla di tutto ciò, quindi stiamo aspettando, speriamo che aggiornino il prima possibile, anche perché, insomma, in questa maniera non riescono a stare dietro ai loro competitor. La valutazione del prezzo, vi ho già detto che abbiamo una hard cap, quindi un max supply di 45 miliardi di ADA, 34.160.000 sono le circulating supply, e la total supply ad oggi è 34.277, quindi significa che la circulating più le criptoalute, gli ADA bloccati in staking, fanno la total supply. L'all time high di ADA, per quanto riguarda la valutazione del prezzo, è di 3,10 dollari. Questi sono i livelli di prezzo che poi adesso vi andrò ad esplicare nella mia analisi tecnica, e vi dico subito valutazione del prezzo. Sono stato uno di quelli che ha acquistato Cardano quando costava ancora 0,06 centesimi, quindi ha avuto anche un grosso incremento di valore a livello proprio di investimento. Ed ho avuto il piacere di poter vedere la crescita della valutazione in tutto il suo splendore fino ai 3,10 dollari. E di averla venduta a 2,8, quindi praticamente ho anche venduto la criptoalute, comunque è un controller abbastanza importante. Ho fatto un gain esagerato, però insomma questo è quanto. Valutando ad oggi solamente la price action, perché dal mio punto di vista il tempo di Cardano è ormai passato, ormai ha avuto il suo esploat, anche se dovesse arrivare a Volterra, secondo me non ci sarà tutto questo esploat che c'è stato invece in questo ultimo periodo. Se dovessimo aspettarci una crescita verticale, servirebbe prima di tutto superare il muro del dollaro, ossia avere, da valutazione odierna, un aumento del 118%. Infatti vedete che praticamente qui siamo noi per arrivare dal mio punto di vista ad avere un livello accettabile è questo. Dopodiché per tornare a sognare, quindi avere comunque una valutazione veramente importante, però dobbiamo attendere la rottura del muro del dollaro e mezzo, sia altri 48% in più dopo il dollaro. Quindi parliamo che da qui dobbiamo arrivare qui. Ed è anche questo uno scalino importantissimo. Questa c'è stata un sacco di volatilità nel 2020, però purtroppo non è facile ricreare una situazione simile. Infatti un livello di prezzo raggiungibile è solamente in casi come una nuova bull run o una notizia di quelle che vengono definite game changer. Sappiamo che, come vi ho già detto, sta in evoluzione il sistema Cardano, quindi potrebbe esserci una notizia game changer che potrebbe dare la spinta, ma dal mio punto di vista è molto difficile. Se l'aggiornamento previsto tra fine del 2022 ed inizio 2023 dovesse andare live, senza ulteriori ritardi, perché purtroppo ce ne sono stati veramente tanti, potremmo tornare a sperare di poter vedere un ADA recuperare terreno prima di tutto rispetto all'opinione pubblica, perché è quella che praticamente sta buttando giù il programma, il progetto, oltre che ai suoi diretti competitors layer 1 come Solana ed Ethereum, che praticamente sono nettamente superiori. Conclusioni. Cardano è un progetto che ha una base di partenza valida, ma non rivoluzionaria come altri layer 1. Inoltre, con i tempi maturi su altre piattaforme di smart contract con potenzialità già espresse superiori, vedi Solana, vedi Ethereum, vedi Avalanche, sperare che un dinosauro come Cardano Ada possa rientrare in gara sarebbe come sperare che l'Italia diventi la nazione trainante della zona euro. Scusate la similitudine, ma io sono fatto in questa maniera. Gli svariati ritardi, le infinite promesse ed il continui rinvii degli aggiornamenti più salienti hanno demotivato il mercato e forse anche gli sviluppatori. Un arsenale come quello delle sue competitor, poterlo ottenere con le tempistiche che caratterizzano questo progetto è praticamente come gareggiare con un'auto degli anni 70 contro le moderne Tesla e Ferrari ibride. Ma, come sempre, il mercato cripto ci insegna che dalla sera alla mattina può accadere quella notizia, quel cambiamento di framework normativo o qualsivoglia aggiornamento che può ribaltare le sorti di ogni progetto presente su CoinMarketCap. Bene, il video è finito e quindi io, come al solito, vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che vado a caricare, andare a visitare il mio account Instagram e TikTok Davidevasco85 e, come al solito, grazie e al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti!